Ah, questo non tutto in piena perché non siamo per il cicluratore Freno a ruote dritte Bravissimo, per una ruota dritte Qua, ok, lascia il freno E poi il gas prima di iniziare a sterzare Esatto, bravo Così, perfetto Ok, sempre a ruote dritte, frena La macchina ancora non è calda Ok, lascia il freno All'interno, si abbaggia il gas Bene Treniamola Ok, così Guardi la macchina comunque come si comporta Sì, sì La fase di frenata che si muove Non c'è un becchetto, quindi non c'è la che pisci di più Così, no? Ferena così, a ruote dritte Ok Perfetto Benissimo Alza un pochino Ok Vai Qui come faccio a capire quando mi chiama la marcia? Perché sul simulatore la marcia è una cosa che lampeggia Allora, quando ti chiama la marcia dici a salire? Vieni, quando devo sì Lo senti? Mamma Più o meno 5500 Più o meno, sì Più o meno 5 e mezzo anche Ok Bella a salire Bravo Più di la così vai sul gas Senti che se la dai troppo tardi la macchina torna indietro, no? Sì Ok, così, stai ruote dritte Frena Continuo a fermare Ok Vai lì Piano 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 Ok Anche ruote dritte Frena Ok Ok Così E' importante anche lo sguardo Guarda dove vuoi andare Quella è la cosa principale Vieni Adesso così Costante 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 Ti apri Ok Ok La macchina comunque scorre Nonostante sia pesante Eh sì Eh che questa qui è un po' un casino con le marce perché ce n'ha 8 Eh Fatti come uno Se perdi La quarta è diversa